Zuku benvenuti in un nuovo video dedicato al primo anime di Star Wars, ossia Visions, che uscirà su Disney Plus con tutti gli episodi questo mercoledì alle 9 ma che grazie ad Every Eye.it ho avuto la possibilità di guardare in anteprima. Quindi benvenuti nel mio video no spoiler riguardo le mie opinioni sulla serie di cui tra l'altro uscirà anche una reaction nei prossimi giorni con tutti i 9 episodi uniti insieme, sarà un qualcosa di molto strano, ma ora pop corn alla mano e lanciamoci. Come magari molti o alcuni di voi sapranno non sono un grande esperto di anime ma non perché non mi piacciono bensì perché magari mi capita semplicemente di guardare altro e sono molto felice che Disney abbia sviluppato questo progetto intorno a Star Wars perché da una parte può essere utile per chi come me ama Star Wars ma non ha molta esperienza con gli anime facendo avvicinare di più a questo mondo mentre dall'altra può essere utile a chi ama gli anime ma non ha molta esperienza con Star Wars facendolo avvicinare di più a questo universo. Personalmente ho visto tutte le serie animate di Star Wars quindi The Clone Wars, Rebels, Resistance di cui in verità mi manca una stagione shhh e la più recente Bad Batch però Star Wars Vision è un qualcosa di completamente diverso. Essa non solo è una serie tv antologica con singoli racconti separati e divisi nei 9 episodi che compongono la prima stagione ma è un qualcosa di spaziale a livello artistico. 7 studi di animazione divisi nei 9 episodi ovviamente due di questi studi dirigono due episodi e non uno e tutti insieme hanno creato un qualcosa di veramente bello. Ogni episodio ha veramente il suo stile sia sotto l'aspetto visivo sia sotto l'aspetto musicale, nello specifico ci sono due episodi la cui colonna sonora mi ha fatto impazzire e devo ascoltarla subito appena la rimettono su Spotify. Successivamente invece è tutto un esperimento, a partire dall'episodio in bianco e nero fino ad arrivare al più classico degli stili anime e se poi siete curiosi di sapere quelli che mi sono piaciuti di più vi ricordo che nei prossimi giorni uscirà la reaction come facciamo anche per le altre serie di Disney+. Comunque riguardo Vision in sé vi dirò che gli episodi durano tra i 10 e i 20 minuti quindi ci sono quelli un po' più lunghi e quelli un po' più corti ma devo dire che non c'è mai stato un momento in cui ho pensato che fosse troppo o troppo poco. Secondo me hanno davvero azzeccato la durata anche se qualche volta morirete dalla voglia di saperne di più, di conoscere più approfonditamente quelle storie proprio perché a differenza di What If della Marvel ad esempio che si presenta come una serie tv antologica ma poi nel finale riunirà tutti gli eroi delle singole storie, qui i vari protagonisti compaiono una volta, raccontano la loro storia e poi puff. I singoli racconti narrano di famiglia, amici o guerrieri solitari, ma l'aspetto più importante da ricordare è che non sono storie canoniche, quindi non sono storie che si legano ufficialmente alla timeline dell'universo di Star Wars, nonostante comunque in tutti gli episodi è chiaro il legame, è chiara l'appartenenza a quell'universo. Avremo riferimenti ad avvenimenti della saga, vedremo magari qualche ambientazione o volto noto, il che quindi ci potrebbe spingere a volere per forza posizionare le singole puntate nella timeline, cosa che anche io inizialmente ho fatto, ma che però non ha molto senso. Secondo me infatti la bellezza di Visions è proprio la possibilità di sperimentare una visione diversa di Star Wars, sotto l'aspetto artistico ma dandoci anche la possibilità di scoprire dei piccoli scorci, delle piccole visioni di un universo talmente vasto nello spazio e nel tempo che...wow. Ovviamente ci sarà la forza, ci saranno cavalieri dotati di spade laser, ma altro non vi dirò, perché dovete godervi tutto ciò e per chi non conosce Star Wars spero possiate terminare la serie in Curiosity così da scoprirne di più e devo dire che anche per me ci sono stati dei momenti molto inaspettati che vorrei tanto approfondire in futuro. Al momento però purtroppo non si hanno informazioni su una seconda stagione, ma spero molto la facciano magari riportando qualche studio da questa prima avventura ma anche introducendone di nuovi. Come anche spero che presto Star Wars si lanci nell'esperimento What If fatto dalla Marvel perché sarebbe veramente bello. Comunque vi aspetto tutti i giorni su Twitch ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. SCATUSH! 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 SCATUSH!